Amici, eccoci di nuovo qua. Sono qui a dimostrarvi il progetto Crossing of Keys, praticamente impegnati nella realizzazione di shooting per grandi hotel in tutta Italia. Per questa tappa siamo volati a Sanremo presso il Royal Hotel, una struttura che ha una grande importanza, basta solo pensare al fatto che ha ben 150 anni di storia. Siamo stati presso di loro a realizzare lo shooting, sono stati due giorni parecchio intensi e potete trovare l'insieme della giornata all'interno della playlist sul nostro canale. Si tratta di una struttura ben organizzata, ben strutturata, ma d'altronde cosa vogliamo aspettarci da un hotel a 5 stelle lusso? Come sempre noi partiamo con una sorta di analisi per andare a capire come si mostra attualmente, soprattutto sul web, e quindi ad intervenire dal punto di vista fotografico. Nel caso di questo hotel, possiamo vederlo ad esempio navigando sul sito, il nostro focus principale era quello appunto di cercare di dare un'esperienza alternativa che il cliente possa praticamente trovarla non solo appunto quando si trova nell'hotel, ma anche quando naviga sul sito, attraverso ovviamente le fotografie. Come abbiamo fatto? Lo vediamo ora sul sito langastudios.com attraverso la landing. Come potete vedere abbiamo immortalato le varie sale, dando importanza soprattutto al servizio e all'eleganza, ma non solo, abbiamo voluto evidenziare anche i dettagli di pregio, come ad esempio l'opera d'arte, le soluzioni architettoniche. Grazie a tutti.